Il Messina sceglie il campo con Lagomastini, Cagliazzo, Fittoni, Bucolo, Giavaro, Mignosco, Paraghi, Cicatiello, Dolce, Leon, Comunza, a disposizione Cuda, Leo, Caldone, Comegna, Berreia, Cucinotta, Corona. La cadete c'è nel campo con il numero 1 De Luca, con il numero 2 Bove, con il numero 3 Cicatiello, con il numero 4 Marangino, con il numero 8 Alfano, con il numero 9 Gatti, Giorgiano, Ercolano, Luca, Danico, Lidossano, Calabro. Il Messina sceglie il campo con il numero 1 De Luca, con il numero 3 Cicatiello, Calabro. Ilorsano, Calabro. No, no! Sì, era piuttosto centrale, ma... Il passaggio del Messina ha segnato il numero 18. E' il Giapponino! E' il Giapponino! Croce la botta e la palo sull'esterno della rete. Botta fino con il destro, poi sul sinistro per lo più giusto. Il successo della rete. Mister, allora una vittoria importante qui a Cavati Tirreni. Purtroppo non c'era il pubblico, però penso che sia stata una partita comunque gradevole. Una vittoria forse anche meritata da parte della vostra squadra. Sì, sicuramente una vittoria importante. Una partita abbastanza difficile perché sapevamo la forza della Cavese. Sapevamo che era una squadra che partiva abbastanza forte. Infatti i primi 20 minuti ci ha messo un pochino in difficoltà. Anche se poi abbiamo cominciato a giocare e abbiamo finito un primo tempo abbastanza crescendo. Poi alla fine su un errore nostro, su una punizione dall'Iro, abbiamo rischiato di prendere gol nella prima parte della gara. Però credo che il primo tempo sia stato abbastanza equilibrato. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con voglia diversa, una determinazione perché volevamo portare a casa i tre punti. Abbiamo cominciato a giocare, abbiamo creato qualche occasione. Alla fine siamo stati bravi a sfruttare l'occasione con Corona e siamo passati in vantaggio. Gli ultimi cinque minuti abbiamo gestito un po' male e bisogna un attimino migliorare. Però nel contesto credo che il Messina oggi ha meritato di vincere la partita, giocando una gara attenta, accorta, con un atteggiamento giusto di una squadra che lotta per vincere il campionato. Grazie.